Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video, io sono Anna e oggi siamo di nuovo su The Sims 4 e stavolta ho scaricato una mod che si chiama Simstuber Career per fare la carriera da youtuber e ho deciso di provarla insieme per vedere un po' com'è sta mod e inoltre oggi cercheremo di farci posare i nostri due fidanzatini che l'altra volta ci abbiamo messo 800 anni per farli fidanzare dopo litigi, su litigi, su litigi, su litigi speriamo che stavolta entrando non li troviamo a insultarsi di nuovo perché sennò sarebbe un bel problema, perché è stato un trauma farli fidanzare però vabbè, alla fine ce l'abbiamo fatta, quindi tutto è bene ciò che finisce bene inoltre vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi raccomando, seguitemi in tanti e niente, spero che questo video vi possa piacere e buona visione, ciao a tutti eccoci qui nel nostro gioco, i nostri sim stanno andando a lavoro, perfetto cioè proprio adesso devo andare a lavoro, ci ho appena iniziato il video, in questo momento devo andare a lavoro, vabbè aspettiamo ok, allora vediamo un po', eccolo qui, questo è il nostro nuovo lavoro, sim stuber ovviamente qua c'è scritto tutto in inglese, adesso non sto qua a tradurre, se volete traducete però, e niente, guardate un po' pochino, vabbè cerco lavoro sì esatto, ok eh lo so, mi dispiace, sei triste non essere triste, dai assegnazione lavorativa Jessica deve rilanciare il titolo delle assegnazioni record animation, emotional vlog studio trends ok innanzitutto cambiamoci cambiamoci l'abito, perché non mi sembra un abito da youtuber questa cos'è? ah, devo avere follower ok, giustamente non ho nessun follower, perché come dire, non è ancora cominciato è semplicemente detto che non avevamo tanti soldi, non ci possiamo permettere, perché siamo una youtuber all'inizio, innanzitutto questa camera la lascerei che poi questo qui è rimasto via da quella volta, non so perché, vabbè, lasciamo stare distruggere questa stanza e la faremo diventare un nuovo studio allora, vediamo qua direttamente che facciamo prima ok, tavolino ok, una sedia adesso facciamo molto semplice, anche perché, come dire abbiamo pochi soldi, adesso 4.000 però questa è come la mia, tipo questa computer, allora questa non se lo può permettere, 10.000 madonna, adesso prendiamo un computer che non prendiamo di questo è questo e poi cosa voglio mettere? una lampada, così, tanto per fare più luce guardate, io sinceramente adesso la lascerei così proprio basic proprio, che povera carriera simstuber adesso tu mi dici perché non posso ah ok, devo iniziare una carriera diciamo, c'è una carriera devo fare un po' di... allora aggiungi storia su simstagram sta aumentando è già quasi 100 follower, madonna allora, Jessica deve avere i primi follower è stato... oh sì, è stato promosso, bravo vediamo se non si insultano, eh sono fidanzate in teoria ah ok, stavolta sono felici, vanno bene 620 follower ma com'è possibile? come dice, crea un... ah beh, ah ok, devo fare prima quindi devo avere il livello 5 di carisma vediamo se così aumenta esatto beh, continua all'infinito ok, questa parlare troppo si è venuto vi è venuto tutto di più non mi interessa se si stanca devi finire di fare questa cosa perché voglio vedere che si sblocca sta roba ti vedo un po' mattonella perché si vedono mattonella? perché si vedono le mattonelle? non capisco e ho di lavorare facciamo così, lavoriamo da casa e adesso ti ho dei discorsi vai, continua sì, lo so che stai male oh, perfetto ora ti puoi andare a fare la doccia puoi andare in bagno e puoi anche mangiare dai, vai puoi far basso di parlare non so come si fa a saccare un profilo social media ah, on the computer ok, social ok social network crea un profilo ok ok simstuber ok, allora promote image broadcast status share joke ok, condividi uno scherzo con i follower vediamo madonna vabbè ho guardato 0 follower ok, 120 cosa? come è possibile che già ho guadagnato 10.000 follower? no scusa 20.000 follower? facciamo un altro gioco vediamo su quanti follower ci fa 250 follower altri 200 allora, dato che ti vedo un po' tesa giochiamo un pochino la partita quindi gioca sim per sempre allora, segnazione ecco, lavorativa per casa vediamo allora ah, prendi no, 5 foto recording cooking video allora, scatta una foto faccio un selfie penso che devo fare così non lo so oh mio dio ma che faccia c'è? oddio madonna, è inquietante non so, c'è sti occhi che mi fanno paura ok, ok, va bene così quindi fare 5 foto in 5 posti diversi va bene allora, intanto promuoviamo ancora l'immagine perché faccio fare un video mentre cucino? dopo facciamo quella cosa delle foto andiamo in 5 posti diversi e ci facciamo 5 foto in posti diversi allora mangio dormi ok, lui è tornato adesso voglio vedere allora, se io lo faccio cucinare fa mangio grigliato adesso vediamo se lei lo riesce a registrare scusa non volevo no, penso che non so come si fa partecipare alla cucina non mi interessa io voglio fargli video ma non riesco vabbè allora, adesso facciamo una cosa lui la lasciamo qua e noi viaggiamo andiamo a farci queste foto a caso proprio e poi dopo aver fatto questa cosa mi facciamo sposare magari tanto comunque hanno abbastanza conoscenze allora faccio un selfie oddio scusa ce la fa a farla felice vabbè madonna vabbè facciamogli fare questa bellissima foto bellissima allora andiamo a fare l'altro posto ok facciamogli fare una foto anche qua no vabbè bellissima questa un'altra foto oggi ti fai un sacco di foto eh e non c'è una foto dove la faccia normale incredibile ne manca una giusto? l'ultima foto te lo giuro dato che sei qua ti prendi facciam prende no vabbè questa è bellissima io queste le appendo sul muro della casa ciò che sei qua e dato che hai sofferto molto a fare queste foto facciamo un cannolo facciamo un po' di amicizia solo per conoscere per invitare qualcuno ora possiamo andare a casa che è tardi dai dormi tutto in bagno e poi dormi che domani ci sposiamo dai oh mio dio lui è ancora con costume da donna vabbè domani devono lavorare cioè deve lavorare allora forse è meglio farlo sabato lo sapete facciamo sabato così nessuno dei due lavora e siamo a posto oddio si arrabbiata mamma mia questa volta la faccio andare a lavorare voglio vedere quanto guadagni allora facciamo un po' fai colazione anzi serve la colazione uova e tos sei arrabbiata perché sei arrabbiata sei arrabbiata ora è triste cioè ora è arrabbiata o triste vabbè dai mangia una porzione che almeno ti fa un po' felice cos'è questa cosa pianta di rifiuti il no questo è caduto magicamente così proprio vabbè adesso qua aspettiamo che lavorano e appena tornano le facciano andare a dormire e poi organizzano il matrimonio oh qui posso fare anche delle cose tipo edit video vabbè posto è già finito madonna che velocità 140 euro che schifo vabbè allora già che ci siamo andiamo qua carriera facciamo uno scherzo ai nostri follower vabbè dai 200 follower non si buttano via diciamo allora dato che sei un po' tesa facciamoti giocare un pochino i giochi gioca blocco blick mi sa che andrò a fare il matrimonio in quel parco dove c'è già tutto già tutto diciamo le robe da matrimonio quindi sono a posto sono le 5 di mattina io farei il matrimonio alle 8 di mattina proprio presto pianifico un evento sociale allora nozze nozze ma scusa ma hai già fidanzato ufficialmente no io ho fatto la proposta ah ecco non gliel'aveva fatta infatti ok posto andiamo qui allora prima ti darà un bacino e poi ti fare la proposta no vabbè ma tu mi prendi proprio in giro ma sono la roba che devo sempre litigare cioè proprio questa relazione è proprio non mi so da fare propone nozze ti prego eh cioè ma io non ci credo lei non ci credo no vabbè cioè ma io io veramente io c'ho cioè non ce la posso fare cosa è meglio fare hai capito dai adesso dai eh per favore dai su oh benicolio accetta oh bravo è l'ora di sposarsi nozze invitiamo tutti anche quelli che odio ma si scusiamo il luogo allora io voglio farla a quel parco questo mi fallo in questo qua che ci sia tutto bellito per nozze innanzitutto già che ci sono lei la vado a fare devo fare la 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 torta così l'ha già fatta e la lasciamo lì con tutte le nostre decorazioni parla con due ospiti per due ore allora allora presentazione amichevole e complimenti sinceri ti fa la torta ok quindi questa torta è qua aggiungi decorazioni luziali ok perfetto adesso la lasciamo qua ora fai sim che promessi sfogli si baciano bacia concediti una bevanda dato che qui non c'è il fornitore lì il fornitore quello che ci mixa la bevanda gli tocca farlo a noi no è scappato cioè potevi aspettare almeno no cioè vabbè uh molto filtrante molto flirtante flirtante sì ancora ci do è proprio con sto flirt eh se filtrante ecco dico sempre così vabbè lei deve andare in bagno quindi vai no no lavati le mani all'infinito ok allora mangiamo qualcosa serve la cena tacos di pesce non so cosa abbiano mangiato vabbè gli altri ne hanno mangiato io volevo chiamare la tavola però oh mio dio mi ha così fredo il matrimonio vai vai spostati oh guardami la mettere la cosa qui che sta facendo questo non capisco sta pensando lì salata non so cosa pensa parla mentre cioè mentre stai sposando sta parlando con questo veramente vabbè lasciamo stare facciamoci domande aspettate devo fare una cosa però un tavolino piccolo tipo questo questa ah pochi d'artificio ah deve tralci al centro di un bancone ah non va bene questo scusami questo va a andar bene taglio la torta naziale finalmente siamo usciti a compiere il nostro obiettivo cioè farli sposare potete tornare a casa ok carriera oh c'ho le foto guardate che le devo appendere mamma mia bellissime guardate madonna che ridotta malefica ecco magari adesso già che ci sono potremmo addificare un pochino le stanze io volevo mettere questo mi sa che non ci sono oh si ce l'hanno invece questo però non posso mettere questo si però e nel prossimo video gli faremo fare un video se non litigano perfetto qua potrei metterci qualcosa ma esattamente non so oh potrei metterci un ferro da stiro potrebbe essere anche una zona da stiro mettiamolo così l'unico che posso cosa l'unica cosa che posso permettermi ok però va bene nel prossimo video penso che gli farò fare un figlio cercheremo di aumentare questi soldi che siamo poveri siamo poverissimi ok non si può vedere una nuova di genere rilassiamaci un pochino dai ma è massimo allora ma che mi vieni in giro stai qua sono appena in giro rilassati tenete di rilassarti mamma non ce la fa oh perché esci oh te l'ha fatta niente prima di chiudere il video vorrevo farla aumentare ancora di follower che questa cosa qua adesso qui non so cosa stiami stia cioè non capisco questo tipo questo qua il fame dove lo posso fare many options are available in the sims tuber career menu on the computer under career eh ho capito ma se no non posso far niente non lo so perché sinceramente non mi esce questa cosa di più fame quindi adesso devo vedere un po' magari poi il prossimo video dove vediamo se riesco a fare sta cosa e niente questo video è stato molto breve o comunque molto intenso diciamo principalmente concentrato sul fatto che volevo farli sposare perché diciamo che l'altra volta veramente è stato una lotta per farli fidanzare quindi e spero che questo video vi sia piaciuto se è piaciuto lasciate like commentate condividete e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto da Anna è tutto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti